Ora, torniamo al topic di questa lezione e parliamo appunto di Mercurio e Venere. Dalla Terra, questa è un'immagine mattutina di Roma, qui si vedono i castelli romani, e si vedono in particolare anche durante questa alba la falce di Luna con la sua faccia nascosta, ma in particolare i due pianeti Mercurio e Venere, che si trovano bassi all'orizzonte. Perché si trovano così bassi all'orizzonte? Perché avendo un'orbita interna a quella terrestre, la loro orbita è molto stretta rispetto a quella terrestre e quindi si trovano bassi all'orizzonte, cioè vicini al Sole. Questa è l'orbita di Mercurio tracciata nel cielo e questa è l'orbita di Venere. Visto che Venere è il secondo pianeta del Sistema Solare, la sua orbita più larga gli permette di raggiungere dei punti più alti nel cielo, ma non troppo, però in alcuni momenti dell'anno è possibile anche vederlo quando il Sole è già sorto, quindi addirittura è l'unico pianeta del Sistema Solare che si può vedere occhio nudo durante il giorno, in particolari condizioni. Se tracciamo una retta di queste orbite, possiamo intercettare la posizione del Sole al di sotto dell'orizzonte, quando questo deve ancora sorgere, quindi sicuramente troveremo questi pianeti nel cielo in prossimità del Sole, o durante l'alba o durante il tramonto, in particolare nell'emisfero boreale a febbraio e marzo durante la sera e a settembre-ottobre invece al mattino presto, sempre durante il crepuscolo e l'alba. Ancora, proprio in questa direzione possiamo trovare la luce zodiacale. La luce zodiacale è la luce del Sole riflessa dal materiale e dalla polvere interplanetaria che si accumula lungo le orbite dei pianeti, e quindi di conseguenza li troviamo anche in corrispondenza di dove si trovano i pianeti. A volte è possibile osservare Mercurio e Venere immersi in questa luce zodiacale la mattina e la sera. Questa è una foto fatta in Cile e si vede benissimo il pianeta Venere immerso nella luce zodiacale del Sistema Solare. Andiamo avanti e parliamo di questo particolare fenomeno che dalla Terra interessa solamente Mercurio e Venere, ovvero i transiti. Venere e Mercurio hanno un'orbita più stretta rispetto alla Terra e quindi in alcuni momenti possono passare davanti al Sole e noi possiamo vedere la loro sagoma sul disco della nostra stella. Qui vediamo una fotosequenza di Venere che passa davanti al Sole. Cosa succede in particolare? Abbiamo che i pianeti interni alla orbita terrestre possono creare una sorta di eclisse, ovviamente essendo molto lontani la loro eclisse non è paragonabile a quella che fa la nostra Luna sulla Terra, perché la loro sagoma è molto piccola rispetto al disco solare, però con opportuni telescopi è possibile osservarla, tant'è che fu osservata anche da alcuni estromi già nel 1600. Teoricamente, se tutte le orbite dei pianeti fossero sullo stesso piano, avremmo numerose transiti ogni anno, ma in realtà non è così. Per esempio, l'orbita di Mercurio è inclinata di 7 gradi rispetto a quella terrestre e questo causa una frequenza di circa 13-14 transiti al secolo. Se così non fossero, cioè se non ci fosse questa inclinazione così diversa rispetto al piano dell'orbita terrestre, avremmo almeno 3 transiti all'anno, quindi sono rare proprio perché le orbite non sono allineate. Ancora, l'orbita di Venere invece è inclinata di 3,39 gradi rispetto a quella terrestre, questo fa sì che la frequenza dei suoi transiti sia di circa 4 ogni 243 anni, alcuni anche intervallati di 8 anni ciascuno, quindi vedete che non sono fenomeni così comuni, ma sono abbastanza particolari e a volte sono degli eventi astronomici che sono abbastanza importanti da osservare. Parliamo in particolare dei transiti. Mercurio non ha un'atmosfera particolarmente interessante, è come se non ce l'avesse, è molto sottile, quindi quando Mercurio passa davanti al Sole la sua sagoma è netta, si vede benissimo il passaggio tra la superficie del pianeta e lo sfondo solare. Quando invece è Venere a passare davanti al Sole si vede benissimo la sfumatura della sua atmosfera, qui si vede proprio che il bordo esterno è sfumato perché Venere ha una densa atmosfera e questa assorbe e riflette in modo diverso la luce del Sole creando questo effetto a bordo sfogato. Questa foto è stata fatta su internet però è stata fatta da Lorenzo Consoli nel 2004, quindi voglio riconoscere il suo lavoro e ringraziarlo per questa bellissima foto. Ancora, Venere è l'unico oggetto oltre la Luna a mostrare delle fasi diverse alla Terra perché ha un'orbita interna alla Terra e quindi è possibile vedere la sua fase piena quando si trova dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra e le sue fasi a faccia di Luna quando invece Terra e Venere sono dalla stessa parte del Sistema Solare. Questo fenomeno fu osservato anche da Galileo, tanto che nel 1600 lui fece questo disegno, ovvero schematizzò le diverse fasi di Venere e scoprì che quando Venere stava in fase piena appariva molto più piccolo di quando stava in fase di falce. Questo perché? Perché quando sta in fase piena Venere si trova dalla parte opposta del Sole rispetto a noi, quando invece si trova in fase di falce si trova dalla stessa parte, quindi è molto più vicino. E questo fenomeno è stato particolarmente documentato già in fonti storiche, proprio qui da Galileo, e osservato tante volte la Terra. Qui vediamo addirittura uno schema che mostra come appaiono le fasi di Venere in base alla sua posizione rispetto al Sole e alla Terra. Vedete qui che quando Venere è più lontano da noi si trova in fase piena, quando invece è più vicino appare più grande ma mai in fase piena, sempre in fase di falce. Questo è solamente un estratto della lezione completa dedicata a Mercurio, e a Venere. In questa lezione parlerò in dettaglio dei due pianeti, in particolare vedremo anche la struttura interna del pianeta Mercurio e la sua struttura esterna a contatto di atmosfera, esosfera e magnetosfera. E poi la seconda metà della lezione sarà dedicata a Venere, con numerosi dati sulla sua superficie esterna e sulla sua struttura interna. In particolare vedrò il fenomeno della pseudotettonica venusiana confrontata con quella terrestre. Potete trovare questo ed altro ancora nella lezione completa dedicata a Venere e Mercurio, la numero 18 del mio corso di astronomia. Questo e tanto altro ancora sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook prof. Antonio Luiacono. Grazie 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 Grazie